Buongiorno ragazzi, per capire benvenuti in questo nuovo video Svizzera-Italia 2-0 Bravi, 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 io lo so Io non lo so Non lo so Non lo so se è normale sta cosa Ma prendere il golo dopo 45 secondi 30 secondi, quelle che erano Dall'inizio del secondo tempo E giocare in quel modo dove non azzeccavi 3 passaggi Non azzeccavi 3 passaggi in europeo che dovevi difendere Che dovevi difendere Avevi anche più o meno una squadra che non era il massimo No, però comunque dovevi difenderlo Il miracolo contro la Croazia Come ho sempre detto Come ho sempre detto Buttato in quel posto Non voglio essere volgare Però avete già capito dove Presa in quel posto, in questo modo Tutta la partita Tutta la partita Bravi, bravi, io bravi No, perché quando Perché quando vai a giocare così Quando ti metti in testa che stai più rilassato Ma stai sullo 0-0 Donnarumma, i miracoli, non può farli sempre Non può farli sempre Cioè sto titolo Potevi anche vincerlo Se usavi questa Se usavi questa, no Invece 0 Invece 0 Presa in quel posto Tutto buttato nel cesso Ok Perché se tu inizi un primo tempo Dove non fai un tiro in porta E questi qua poi Eventualmente te la mettono dentro Un grande gigio Donnarumma Un Donnarumma Monstruo Che ha un piede così Una mano così Eventualmente segnano questi qua E così è stato E così è stato E così è stato Bravi, bravi Un applauso Un applauso Difeso benissimo Difeso benissimo Adesso Prossimo obiettivo Forse la Nation League Ma ce la prendiamo in quel posto Anche là Con la Croacia Abbiamo avuto un coso così Un coso così Bravi, bravi, bravi Un applauso Spalletti, un applauso Spalletti Un applauso Un applauso Una medaglia Te la do Ecco Ecco la medaglia Eccola qua Un gufo Ti sbatto in faccia Un gufo Ti sbatto in faccia Un gufo Cioè veramente 45 minuti A fare niente A fare niente Dopo il 2-0 Ho detto qua è finita Qua è il palo Autopalo Scamacca Cioè veramente Fa malissimo Perché oggi comunque Potremmo farcela Perché siamo abbastanza forti Però oggi c'è Valiamo zero adesso Valiamo zero Riprendiamoci in piedi E soprattutto Ripartiamo adesso In Nations League Ripartiamo adesso In Nations League Che più o meno Ce la possiamo fare Contro Belgio e Francia Che sicuramente Non sarà facile Però ragazzi Siamo l'Italia Siamo l'Italia E che devo dire Che devo dire Che devo dire Che devo dire Ci l'hanno messa In quel posto Ci l'hanno messa Ci l'hanno messa In quel posto Zero Ah Ah Anzi Ce ne fosse un tiro in porta Uno Uno che ho visto Uno che ho visto Zero Zero tiro in porta Con una Svizzera Modestissima Modestissima Cioè veramente Veramente Adesso tutta Europa Ci piglia Per quello No Tutta Europa Tutta Europa Tutta Europa Ci prenderà in giro Per non essere volgare Per non essere volgare Però se tu Per 90 minuti Non fai un tiro in porta Questi qua Ne hanno fatti due Ma ne potevano essere Cinque o sei Se Donna Rum Come al suo solito Ci ha messo sul carro E poi ci ha buttato Perché giustamente Facciamo Abbiamo fatto piangere Abbiamo fatto piangere Punto e basta Adesso L'Europa Lo vincere sicuramente L'Inghilterra La Danimarca La Germania Non mi interessa adesso Non mi interessa Non mi interessa più Non mi interessa più Non mi interessa più Non mi interessa Perché oggi Ovviamente Io pensavo Che potremmo Almeno farci In qualche modo De rigore Un cortomuso Neanche quello Neanche quello Dai Un applauso Spalletti Un applauso Un applauso Te lo devo fare Veramente Inconcepibile Il primo tempo Dove Dove eravamo Dove eravamo Nel primo tempo Dove eravamo Secondo tempo Ancora peggio Ancora peggio Dopo 30 secondi Da Vargas Dopo 30 secondi Ragazzi Non vedo l'ora Che inizi la Serie A Adesso Quando torna Ragazzi Quando torna La Juventus Quando torna La Juventus Quando torna Quando torna Che almeno Gioisco Per qualche cosa Gioisco E non devo soffrire Come oggi No Ragazzi Commentate Condividete Fare tutto Ciao Ciao